Siamo nel backstage di Eccezionale Veramente, nel nostro angolo RDS alla ricerca delle battute più belle della storia della comicità. Il nostro ospite oggi è Vito Cacatella. Salve a tutti. Sei di Memphis? No, no, sono di Caneusa. Quasi la stessa cosa. Senti, ce l'hai una battuta magari in ambito musicale che sei il perfetto. Certo. Eravamo un gruppo rock, eravamo sulla bocca di tutti. Ci chiamavamo di Herpes. È bellissima, è tua? No, dei figli d'India. Ecco, era troppo carina per te. No, ti ringrazio Vito, la prossima settimana saremo di nuovo qui alla ricerca delle battute più belle. Ce ne saranno di migliori, promesso.